come non fare la raccolta allora stamattina sono stati attaccati durante le svs alcuni di voi adesso ne possiamo fare la cortesia di mandarmi il report di un suo attacco se voi andate a vedere è proprio come non è stato detto di andare a fare la raccolta ossia la raccorta si fa con le t1 no con le t7 tantomeno modificate a spinta adesso le devi rifare queste non si fa con le leader non si mettono queste qui non si non lo mette vanno fatte tutte come vi faccio vedere adesso queste sono le truppe che vanno fatte ne so pure troppe queste perché se vado a prendere un campo di piante quanto c'ha di massimo livello 7 milioni e 2 regolo con questa qui con questa qui la il carico lo darò a un milione e due perché tanto di più non posso portare ok milione vai da un milione e 2 ci arriviamo ecco qua questo basta e avanza per andare a fare il carico con qualsiasi livello 7 tipo di foglio vediamo ok ci abbiamo un milione e due vedete un milione e due che basta caricare con quelli li ok basta adesso se voi avete lasciato le p6 il p7 v7 che la spinta quelle adesso dovete rifarle come vedete non ci sono sopravvissuti ok non si va a fare così non si va si va con le t1 senza le leader ve le segno pure questa no questa no senza mi certo ok senza questo sempre con le t1 al numero necessario per completare la raccolta